Dentro di noi ci sono tante emozioni diverse, che convivono e si alternano anche molto velocemente. Quante volte ti è successo di provare emozioni contrastanti che si sovrappongono, lasciandoti in confusione? Ti è mai successo di andare ad un primo appuntamento e sentirti felice e allo stesso tempo avere paura? Oppure davanti a un cambiamento di provare eccitazione, ma al contempo tristezza? Ora, imparare a riconoscere ogni nostra emozione ci permette di comprenderci meglio e vivere la nostra vita più comodamente. Ciascuno di quei particolari ha un significato che può essere utile e importante per noi. Allo stesso modo, noi dobbiamo darci il tempo per connetterci e riconoscere le infinite sfaccettature delle nostre emozioni. E questo ci permetterà di conoscerci meglio. Tanto più ci rigidiamo davanti a un'unica visione, tanto più limitiamo le nostre possibilità. Tanto più aggiungiamo sfumature alla nostra vita, tanto più ci concediamo occasioni e opportunità.